ciao ragazze eccomi qua allora in un altro nuovo video chiacchiericcio come sempre allora questo video consiste nel parlare oggi perché ne ho registrato un altro poco fa siccome sono stata ieri e oggi e dopo soprattutto sono stata cosa ho fatto di bello ma questo arriverà quando lo pubblicherò allora non ho montato niente lasciato tutto come l'ho guardato il video quello che ha registrato prima solo guardate basta quello montato senza modificare una mazza perché non mi piacciono i video troppo robotici però va bene così voglio essere semplicemente scialla me stessa e basta libera di di lasciare i video anche così come sono basta che non siano troppo impappinati va benissimo così comunque niente ho già perso troppo tempo a parlare del nulla sono già il minuto che sto parlando allora innanzitutto questo video di i miei preferiti di un mese di questo mese anzi anche del plus del del recente cioè di non lo scriverò nel titolo perché sono non mi ricordo cosa voglio dire però ve lo dirò lo stesso allora con preferito sto preferendo le serie tv che non sono le serie tv le proprie che sono le so op opere le so op una come dire aiutatemi la la promessa e terramara poi c'è beautiful che mi sta piacendo un casino perché lo seguo già da quando ero piccolina e niente c'è beautiful e la terramara terramara è troppo bella adoro è fantastica è troppo wow io lovo da morire terramara non so se si è capito ps se mi vedete così già ve l'ho detto un altro video è perché ho la bocca tutta piena di punti tutta da questa parte piena di punti quindi se mi sentite padale strana già ve l'ho accennato nell'altro video per quello non mi non mi dilungo più di tanto in questo allora quindi non posso neanche tanto più sorridere sorrida malapena allora quindi a parte la terra terra amara e la promessa mi piace un botto poi come sopra come sopra c'è tempeste d'amore che me lo guardo è una serie tv ma ho aspettato una sopra tv tedesca che tra l'altro è bellissima e adorabile e non dico altra cosa perché si capisce che mi piace e me lo guardo quando mangio quando sto facendo altre attività in casa altre facendo in casa che parlo della della sera arrivati alla sera tardi tra le sette e le otto di sera poi c'è il talk show riguardo poco ma riguardo sempre anche quando guardo youtube sul telefonino di serie tv appunto c'è appunto il talk show anche il talk show riguardo stasera italia tutta strome poi mentre a parti preferiti adoro molto che adesso uscire l'aria aperta questo mio attività mia preferita che mi piace molto c'è l'aria aperta non so che mi piacesse invece mi piace molto uscire l'aria aperta e anche questo la mattina quando mi alzo a prendere un caffè mi piace uscire fuori nel mio foggioletto a guardare un po la natura che mi circonda cioè oltre alle case che mi sono di fianco a me c'è anche un po c'è un orto che c'è un nostro vicino ed è un incanto perché anche lì c'è la natura poi poi non so se avete visto poi casomai faccio uno screenshot una foto e veramente qua di fianco o non lo so vediamo di qua questa foto quando andrò a montare il video senza modificare niente un'altra foto sempre nel montaggio vi metterò la foto delle mie tisane o quello che mi stanno dicendo molto e ieri anzi in un altro video non lo so forse anche questo metto dove sono andata ieri anche perché non l'ho detto non l'ho detto con il video ma ve lo dico in questo comunque sono andata a sassari ve lo accendo lì non ve lo accendo qui e niente quindi i miei i miei preferiti le mie cose attività preferite sono queste uscire l'era aperta poi prende un caffiuccio che so cantare perché cantare piace un botto anche se non sempre sono attorata ma mi diverto un casino mi piace molto anche scrivere i miei pensieri ma questo non lo faccio mai perché non lo faccio sempre perché non sono costante lo devo anche dire che non sono costante pazienza per ogni tanto mi diletto a leggere mi diletto mi munisco di libri e leggo qualche libro ma non sembra quello lì non sono costante non che non piace mi piace ma a volte lego di più le riviste che con i libri cioè è così per quanto riguarda invece i libri che mi piace molto leggere sono vabbè gli stessi perché mi l'ho detto un sacco di volte però ce n'erone avrete la nausea piena la testa piena così la damigella d'onore c'è un castello o costello non mi ricordo più e devo ancora iniziare a leggere william shakespeare romeo giulietta di sapete tutti la famosa nel mondo romeo giulietta lo devo leggere per forza di cose perché è vero è incomprensibile va capito quel libro e io voglio entrare la testa di chi ancora non ha capito come io per esempio per cercare di capire cosa non capisco di quel libro e leggerlo bene e vedere perché è così difficile poi non lo vedo così difficile forse sono io che all'inizio non mi sentivo di leggerlo non lo so bu non ne ho idea e niente questo è quanto altro vi devo dire sì i vestiti e le borse che porto sono gli stessi tra pantaleghi semmo dietta lunga fino alle cosce più meno metà coscia e poi che dire le borse sono lo zainetto quello verde che mi piace tanto a voi che ogni tanto me lo entra vedete nei video outfit oggi sono in pigiama non ci fate caso non fa non fa testo oggi però le altre volte quando mi vedete vestita sono o con lo zainetto con la borsa della gas che ho controllato della propria della gas con la borsa so che mi piace un mondo un botto mi piace una borsa e di fatto intanto la porto perché piace anche molto piace molto anche a me scusate un po il giro di parole però così poi cos'altro c'è che mi piace molto come come borsa quella borsa rosa color cipria rosa cipria bellissima troppo bella ai manici che si può portare si può portare sia a tracollo che a spalla io la porto sempre a spalla perché tracollo la vedo pericolosa non sia ma che mi casca tutto dalle mani quindi anche no grazie e poi niente cos'altro c'è il prossimo video vi anticipo già che sarà un video appunto sui miei vestiti non nei miei outfit quello che porto sempre mi farò un breve video outfit c'è non outfit che sto dì i vestiti che indosso di più sia per stare in casa che per uscire fuori di casa a fare le grandi passeggiate grande sì per me grandi passeggiate perché ci faccio in giro tutto intorno lì al porticciolo scendendo da casa mia fino al porticciolo verso quella casa che vi appunto abbiamo fatto vedere in a casa ma in a casa vado dritta vicino alla farmacia poi scendo giù fino a casa mia e basta tutto lì quello è il giro che faccio di solito altrimenti mi fermano altre viuzze di palau che ancora non ho ancora visto non avete ancora visto che un giorno non so se vedrete mai però ci spero poi non è che soltanto come so dire gironzolona come certe mi hanno definito qui a palau che giro troppo meglio girare troppo che non restare chiuso in casa tutto il giorno quanto è grande no che dite voi e direi meglio stare in giro non dico solo divertirsi ma anche a fare commissioni la spesa che ne so anche per un aperitivo cosa che io la faccio ben poco l'aperitivo perché tante volte mi faccio in casa l'aperitivo ma vabbè questi sono dettagli e niente a proposito prima vi ho detto che non mangiavo più nulla per durante la mattinata non lo lasciamo perdere vi ho preso due vasetti di questi omogenizzati perché avevo una fame buia quindi no comment però poi adesso tra poco mi rivado a lavare i denti cioè lavare i denti e anche fare i gargarismi perché gargarismi come riesco a fare perché questa bocca così no comment già no comment e niente ragazze anche come dico in questo video non modifico nulla però lo guardo e se qualcosa non va forse la taglio ma non credo perché privadisco i video robotizzati a me non fanno impazzire cioè quelli tagliati troppo già l'altro uno l'ho tagliato bene male ma malissimo e poi non credo che abbia capito che abbiate capito nulla di quello che ho detto ma almeno io spero di sì tra virgolette però vabbè niente questo è quanto e noi ci si becca a un prossimo video ah non ve ne andate mettete un bel like di supporto un commento e attivate tutte le campanelle per rimanere attivi sul mio canale cioè per tipola tutta se vi va attivate tutte le campanelle in modo da non perdere i prossimi video ciao un bacio